Buonasera, un video per un iscritto che mi ha chiesto di fare la mia storia sull'apparecchio per i denti. Eccoci qua, accontentato e anche abbastanza velocemente. Allora, la storia dei miei denti. Ti ho chiesto di essere un po' chiaro nella domanda perché giustamente si può dire che sull'apparecchio se ne possono dire tante, però hai detto di fare un po' un discorso generale, raccontare la mia storia. Allora, la mia storia è un po' particolare, è una storia che nasce da un problema al palato perché io ho avuto una piccola problematica. Fino a 21 anni purtroppo ho succhiato il dito, il pollice. 21 anni sono tanti se ci fai caso. Ovviamente è una problematica seria che comunque io ho continuato a fare perché mi rilassava e quindi non vedevo la difficoltà o il motivo per cui dovessi smettere. Invece purtroppo mi stava creando dei problemi ai denti e soprattutto al palato. Mi stava creando dei problemi al palato perché il palato ha preso letteralmente la dimensione del mio dito. Cosa è successo quindi? È successo che basta che ci pensi un attimo è facile arrivare e dedurre che si è portato dentro tutti i denti sopra. Perché se tu immagini lo scheletro della faccia, immagina che il palato va in su, fa un po' impressione pensarla, però purtroppo è quello che è successo a me. In pratica piano piano i denti sopra hanno iniziato a seguire il palato, quindi sono andati in dentro. La parte sopra era una cosa difficile da vedere così, se sorridevo non sembrava che ci fosse un problema perché davanti andavano bene, però questi qua laterali stavano andando in dentro, quindi praticamente io avevo quelli sotto più larghi rispetto a quelli sopra. In realtà una masticazione corretta non è questa, infatti questo è già un morso, quello che viene chiamato un morso invertito. Quindi cosa è successo? Purtroppo ho dovuto intervenire perché in realtà oltre a creare questa situazione mi stavano iniziando anche a venire dei problemi di varia natura. Perché sai, se non lo sai te lo dico io, la occlusione dentale non è solo un fattore estetico, sì per carità è bello avere un bel sorriso. Il problema della masticazione corretta è che se non c'è una masticazione corretta ne risente tutto l'organismo. Quindi prima o poi inizierai a avere dei problemi, dei problemi correlati, quindi vertigini, possono essere dei problemi di postura, tutto ad un tratto ti accorgi magari che cammini da un lato piuttosto che da un altro o tutto in avanti curvo. Proprio perché i denti, la loro posizione, quella giusta che dovrebbero avere, sono praticamente esattamente le colonne del corpo. Cioè sono tecnicamente i punti in cui il corpo si sorregge. Quindi se c'è qualche problematica a catena inizierà a dargli delle problematiche correlate. Adesso non sto a dire quali perché veramente ce ne sono tantissime. Quindi in ogni caso se avete una malocclusione io vi consiglio comunque per essere sicuri di sistemarla. Perché se stiamo a guardare i sintomi ce ne sono tantissime e non ne usciamo più. Ad ogni modo se c'è una malocclusione va sistemata. Allora poi, niente, presa coscienza che iniziavo a avere queste problematiche perché io ho iniziato a avere vertigini. Poi stavo iniziando a vedermi diversa allo specchio, cioè mi stavo iniziando effettivamente a rendere conto che la parte sotto era più grossa. Quindi mi vedevo strana, cioè era una percezione minima che non capivo cosa stava succedendo. Ho iniziato a avere anche dei problemi psicologici perché in un modo o nell'altro comunque inizia a vederti diverso. Però non capisci qual è il problema. Il problema erano i denti. Quindi, niente, ho dovuto contattare... Sinceramente mi sono anche un po' spaventata. È stato un periodo molto brutto della mia vita. Anche un po' di depressione perché non riuscivo a capire quali fosse il problema. Facevo tantissime visite mediche. E poi alla fine mi sono resa conto che effettivamente c'era qualcosa di strano nella bocca. Ovviamente ho fatto uno più uno e ho capito che era perché c'era questo benedetto dito che mi stava creando questa problematica. Quindi ho iniziato un po' a fare delle ricerche, un po' come fanno tutti. Poi sono andata dal medico di famiglia, gli ho detto la problematica e lui mi ha proposto... Cioè io sapevo che probabilmente dovevo mettere un apparecchio. Ho avuto un appuntamento col dentista perché poi lì ho avuto appuntamenti... Era un periodo che avevo appuntamenti un po' con tutti. Quindi un po' tutti davano il loro parere. Questo dentista mi disse che dovevamo mettere l'apparecchio. Però prima dovevo fare l'operazione ai denti perché loro dovevano allargarmi il palato. Dovevano allargarmi il palato. Questa notizia ovviamente non mi ha fatto molto piacere. Fatto sta che ho accettato ovviamente perché mi dovevano allargare il palato chirurgicamente. Perché purtroppo essendo che sono adulta, perché a 21 anni ero adulta, l'apparecchio non avrebbe potuto sistemare il palato. Perché l'osso del palato oramai è formato. Quindi per aprirlo bisognava fare l'intervento chirurgico. Non ti dico quanto sono andata fuori di testa a cercare di capire se esistesse un apparecchio che potesse aprire il palato. Sono stata dietro secondo me tre anni a cercare di comprendere su siti di ogni tipo, professionisti di ogni tipo, perché nella mia testa secondo me, perché comunque quando abbiamo poi delle problematiche fisiche, è brutto da dire, però ci fissiamo e diventa un po' una malattia mentale perché tu vuoi sapere come star bene, giustamente. Ad ogni modo ho speso veramente tantissimo tempo a informarmi e perché io mi ero messa in testa che secondo me c'era un apparecchio che apriva il palato, probabilmente perché non volevo fare l'operazione. Ma non solo, perché anche internet mi aveva ad un certo punto mandato in confusione, perché leggevi siti che dicevano che c'erano questi apparecchi che aprivano il palato. E io ho detto ma... E quindi questa cosa mi stava mandando un po' in crisi. In realtà poi mi sono molto documentata e quegli apparecchi in realtà sono fatti per i bambini. Non c'è nessun... Io posso essere... posso dirvelo al 100% ragazzi, perché ci sono stata dietro come la morte a queste cose. Non c'è sulla faccia della terra nessun apparecchio che vi allarga il palato in età adulta. Anche se leggete cose strane, Byte che aiuta ad allargare un po' il palato, tutte queste cose qua. O apparecchio particolare americano, perché poi sapete che nel campo del marketing poi alla fine c'è un po' di tutto, ogni cosa passa da lì. Quindi vedevi l'apparecchio americano che costava, che ne so, 8000 euro, guarda caso. Byte che allarga il palato. Insomma, alla fine però mi sono documentata e ho contattato singolarmente ogni singola azienda e tutte, tutte mi hanno detto che comunque alla fine della fiera no, non erano per adulti quegli apparecchi. Allora, niente, ho fatto questo benedetto, benedetta chirurgia per allargare il palato. Dopodiché ho messo l'apparecchio fisso. Dopo che ho messo l'apparecchio fisso l'ho tirato via. È venuto fuori che dovevo rioperarmi, perché il palato era ancora piccolo. Quindi ho dovuto fare una seconda operazione e rimettere l'apparecchio fisso. Nel frattempo mi ero fatta anche un po' a bindolare da una pubblicità di una Byte molto famoso in silicone che stando a quello che diceva l'azienda un pochino avrebbe aiutato ad aprire il palato. Anche qua, no, nel senso, è per i bambini, non per me, non per l'adulta. Però, come ripeto, io mi ero fissata perché era una cosa a cui tenevo, probabilmente. Sapete, funziona così poi, anche se ve lo dicono in faccia. Io ho voluto fare l'appuntamento con questi dentisti a Milano, sono andata in treno, gli ho spiegato tutta la mia situazione. Questi mi hanno guardato con una faccia un po' strana perché ovviamente quella era diventata un po' la mia fissa e loro non sapevano come dirmelo che questo apparecchio in silicone non faceva per me. Ad un certo punto la signora, molto gentilmente e molto, anche dico onestamente, ad un certo punto me l'ha detto. Ha detto, guardi signora, se vuole provare a mettere l'apparecchio, lo metta. Perché comunque è un apparecchietto di silicone, è poco invasivo, ma al che vada l'aiuta un po' a star meglio, magari a dormire meglio, così. Però se lei cerca l'apertura del palato, io le dico già che questo apparecchio non fa per lei. E nonostante lei mi avesse detto così, io ho detto, sì, lo voglio lo stesso, ho pagato i soldi e me lo sono preso, perché io mi ero impuntata che quell'apparecchio apriva il palato. Invece non apriva il palato, ragazzi. Però in quel periodo non stavo bene, anche perché questi denti che non combaciavano bene, purtroppo mi creavano veramente delle problematiche, anche semplicemente nel dormire. Io ero sempre tutta attesa, stringevo sempre idee, cioè mi stava creando delle problematiche proprio pesanti a livello fisico. Quindi a me, sinceramente, di mettermi in bocca un apparecchio in silicone, mi sembrava già di star meglio, non so spiegarvi. Allora mi sono impuntata e ho preso questo apparecchio in silicone. L'ho tenuto in realtà un bel po', un po' di mesi. Poi mi sono rotta i coglioni, perché in realtà mi sono accorta che non facevo un cazzo. E poi che dire, ho messo il secondo apparecchio, il secondo apparecchio fisso. Lì finalmente i denti hanno iniziato veramente a muoversi. Il secondo apparecchio, attenzione, l'ho messo... Ho cercato volutamente una persona che capisse realmente la mia problematica, perché comunque volevo uscirne da questa storia. Siccome io dopo che avevo finito la prima seduta del primo apparecchio mi sentivo ancora strana, non so spiegarvi. Cioè se chiudevo... No, il punto era questo. Se io stringevo i denti, non sentivo che combaciavano. E sta cosa mi rimaneva qua, perché dicevo ma io ho fatto due interventi chirurgici. Ho messo un apparecchio fisso di due anni, Casini, Milano per apparecchio in silicone e adesso stringo i denti e sento che non combaciano. A me sta cosa non andava bene. Cioè non mi andava giù. E quindi io in un modo o nell'altro questi denti li volevo sistemare. Non me ne frega come fare, ma lo dovevo fare. Allora, grazie a Dio ho trovato... Io sono una che gira YouTube parecchio. e ho trovato un dentista di Torino su YouTube che ha fatto due o tre video che mi ha tipo... mi sentivo, non so, come se avessi avuto una ventata d'aria fresca e come se fosse il mio salvatore. Mi sembrava che mi capisse mentre parlava. Quindi l'ho voluto contattare. Ho avuto quello che si chiama il colpo di fulmine, no? Gli ho spiegato la mia situazione sapendo e pensando che lui mi avrebbe capito perché effettivamente sentivo una certa alchimia in video. Mi sembrava proprio una persona che sapesse bene quello che stava facendo. e abbiamo fissato l'appuntamento e mi ha messo questo apparecchio qua. Questo apparecchio qua che ce l'ho su da circa due anni. Tra... Tra circa due o tre mesi lo devo togliere. Quindi in teoria ho finito tutta questa storia assurda stile incubo e i denti praticamente sono tornati a posto. Io quando stringo i denti adesso sono praticamente perfetti. Mi sembra ancora strano come situazione perché veramente sembra che sono uscita da un incubo però alla fine ne è valsa la pena. Spero che ti ho risposto alle tue domande e alle tue curiosità. A presto!